Clearview Patter distribuito in Italia da Goldfinger Italia la soluzione ai vostri problemi con il pat e forse anche con le donne, grazie al suo appeal tutto trasparente abbiamo una doppia croce che copre il lato superiore e inferiore del patter adesso sto facendo collimare i due segni significa che quando avrai questa stessa visione con i tuoi occhi vuol dire che avrai uno stance perfetto ovvero colpirai square se colpisci square la palla esce fuori dal tuo colpo perfettamente dritta nella retta parallela alla retta che passa per i tuoi piedi ecco abbiamo trovato la soluzione per tirare bene e dritti colpate grazie grazie